molto difficile da capire. Hunkar Gili dice che però l'ha accettata, ma Demir risponde che non l'ha accettata, ma ha cercato di capire e lo ha capito fino in fondo quando si è innamorato di Zuleya e non ha saputo rinunciare a lei. Fekeli raggiunge Yilmaz e Giali chiede di non essere arrabbiato con Mujan perché ha fatto la scelta giusta per il suo bene. Lui gli risponde che non lo è più, ma è solo triste per Zuleya. Fekeli Giyi dice che lui e Demir devono agire solo per il bene di Adnan. Yilmaz Giali ribatte che vuole che Adnan lo chiami padre e non Demir. Hunkar è ancora con Demir e già lei confida di quando il padre le aveva detto che doveva sposare Adnan nonostante lei non lo amasse. Aveva cercato solo di proteggere la sua dignità, ma con Adnan non era mai stata felice. Adnan non la stimava e non l'amava e i tradimenti pubblici la disonoravano. Un giorno le voci sul suo amore per una cantante e le rose che mandava le confermarono che Adnan amava un'altra donna. Questo la ferì profondamente. Quando Adnan le disse che voleva divorziare e sposare l'altra donna, Hunkar combatté per avere Demir con sé, non per trattenere Adnan. Commosso, Demir l'abbraccia, chiedendole perdono e promettendole di non danneggiare più la sua dignità. Hunkar vuole che Demir aiuti finanziariamente Sevda, ma senza ledere la sua dignità. Intanto, Yilmaz osserva da lontano Adnan e Zuleya all'ospedale, mentre Mulgan è triste e pensa ai momenti felici con Yilmaz. Fekeli osserva Hunkar dal terrazzo, pensieroso. Demir e Sevda sono chiusi nei loro pensieri. Cetin è con Gulten e le propone di sposarsi subito, temendo che se Yilmaz scopre di essere il padre di Adnan, ci saranno ancora più problemi e il loro matrimonio sarà a rischio. Yilmaz, nel frattempo, riesce a nascondere una cassetta di soldi in un luogo isolato e ricorda il momento in cui aveva venduto le sue proprietà senza dirlo a nessuno per fuggire con Zuleya. Hunkar ha accettato di aiutarlo e già lì ha augurato felicità. Il giorno successivo Demir si reca all'ospedale per portare a casa Zuleya e Adnan, ma scopre che la targa con il nome di Zuleya è stata rimossa. Demir chiede al Dot, ha Ikut di rimetterla al suo posto. Quando Zuleya e Adnan tornano a casa, tutti sono felici e Demir ordina di fare un sacrificio per ringraziare Dio e distribuire la carne a tutti i lavoratori. Tuttavia Yilmaz si presenta e chiede di vedere suo figlio, ma Zuleya gli dice di andarsene. Demir è pronto a reagire, ma Hunkar lo ferma. Zuleya chiede loro di smetterla di combattere, poiché il bambino ha rischiato la vita. Yilmaz chiede solo di vedere Adnan e Zuleya, G-A-I, concede un breve sguardo. Quando Sanye, convinta che Fadik sia incinta, la vieta di fare alcuni lavori, Fadik si preoccupa e pensa che Sanye sappia dei braccialetti e voglia sostituirla. Una volta tornati a casa, Demir ordina di fare sacrifici per ringraziare Dio e Cetin riferisce a Yilmaz che sa di Adnan e delle voci che circolano in paese. Yilmaz G-A-I risponde di sacrificare delle capre e distribuire la carne. Hunkar e Fekeli si ritrovano nel loro solito posto e si congratulano per il recupero di Adnan, che ora sta bene. Tuttavia, Hunkar è preoccupata delle voci sul fatto che Yilmaz sia il padre di Adnan, temendo che ciò possa portare a problemi e scontri. Fekeli suggerisce di far incontrare Demir e Yilmaz prima che la situazione peggiori, convincendoli a parlarsi per il bene dei bambini. In paese, Sermin incontra Friket e cerca di farsi riconoscere, ma lui la liquida, dicendo di non ricordare quel periodo. Subito dopo, Sermin incontra Behice e le mostra due passaporti di Friket, sospettando che lui abbia un'identità falsa e voglia impadronirsi dell'eredità di Yilmaz. Muigan, nel suo studio, riceve la visita del Dottei. Aikut, che le riferisce la richiesta di Demir di ripristinare la targa in onore di Sermin.